Grazie a tutti in questo nuovo video Siamo tornati su Da nessuna parte siamo tornati Perchè oggi farò vedere Come gli youtuber Cioè farò vedere dove Gli youtuber prendono le canzoni Allora per la prima cosa andare su youtube Che vabbè facile Andare su youtube Poi scrivere qua Canzoni Youtuber Youtuber Cercate Troverete la playlist con 98 canzoni Sono tutte quelle degli youtuber Intanto qua partono le canzoni Io le stop perchè sono Tratte di copyright Guardate qua qui ci sono proprio tutte le canzoni Sono tutte quelle Che volete Io vi consiglio Dei suoi laptop I'm in albatross Poi I am fire Poi buracca son sisma E questa è proprio bella E non lo so Poi vedete voi le altre Comunque ragazzi Questo video era solo Per informativo Per sapere solo Dove gli youtuber Prendessero Queste canzoni E vi ricordo Di lasciare mi piace Iscrivervi al canale Che cazzo ho fatto qua Vabbè Noi ci vediamo Domani con un nuovo video Ciao Ciao